Questa è stata una grande opportunità per il networkamento con molti colleghi e per fare molti nuovi amici per l'opportunità anche per la collaborazione futura, che è importante per sostenere la connessione tra i vari paesi, per migliorare l'economia economica e la pazienza sociale e la comprensione tra i vari paesi. Grazie a tutti gli organizzatori.